Musica Oggi vogliamo presentarvi la nuova gamma on-piste di Atomic per la stagione 17-18 Buongiorno a tutti gli appassionati di sci, siamo nello stand Atomic all'ISPO edizione 2017 e vi presentiamo le novità del mondo pista di Atomic, novità che derivano direttamente dalla Coppa del Mondo quindi sono nate per correre e poi sono state portate nel mondo commerciale per dare ai nostri clienti e ai nostri appassionati lo stesso identico prodotto e tecnologia che viene usata dai nostri atleti Stiamo parlando del sistema Servotec che è una tecnologia che consente allo sci di adattarsi in funzione della velocità e di variare sostanzialmente la struttura Per farvi un esempio, un po' come l'idroguida intelligente delle macchine a bassa velocità abbiamo uno sterzo estremamente morbido per facilitare le manovre quindi l'inversione degli spigoli è bassissima velocità allo stesso tempo quando portiamo l'automobile a velocità molto elevata lo sterzo indurisce, ci garantisce sicurezza e sensibilità e questo è esattamente il concetto portato sullo sci sulla base delle richieste dei nostri atleti che vogliono assolutamente nella fase di conduzione curva avere la massima precisione di tenuta e di contatto con la neve dell'attrezzo la tecnologia Servotec è nata per questo Per guidare lo sci evidentemente serve anche lo scarpone parte fondamentale, indispensabile e lo sviluppo della nuova scarpa sempre su suggerimenti e feedback direttamente dagli atleti, dal nostro team di Coppa del Mondo abbiamo realizzato la nuova linea di scarpa a resta è una scarpa molto essenziale improntata esclusivamente sulla performance e sul feed non è più oggi corretto definire una scarpa da gara un qualcosa che deve essere solo prestazionale, doloroso eccetera no, oggi abbiamo il comfort unito alla performance un connubio perfetto perché anche l'atleta deve sciare in scioltezza e non può permettersi di avere particolari pressioni sul piede deve avere la massima sensibilità con la massima prestazione è nato il nuovo Rester Workup la gamma è composta da G9 Servotec Race Carve Gigante S9 Servotec Slalom Carve Gigante un modello TR non dotato della tecnologia Servotec che sostanzialmente è un multiraggio la sottogamma della linea Rester per poi riprendere di nuovo la tecnologia col modello X9 un multiraggio di altissime prestazioni dotato di struttura FIS quindi con gli stessi materiali utilizzati per l'uscita gara nato da due prodotti di altissimo livello un matrimonio perfetto fra il mondo backcountry touring e il mondo pista nasce il nuovo Scaspone Ops Ultra Extended è vero l'evoluzione di due mondi concentrato in un unico prodotto che ci consente l'utilizzo di sci d'alpinismo con il sistema attacco TLT ma allo stesso tempo di sci freeride con il sistema WTA ovvero l'omologazione per gestire tutti i tipi di attacchi all'infuori degli attacchi prettamente pista che abbiano la regolazione verticale delle ganasci e quindi consentono di gestire il contatto dell'attacco sulla punta dello sci in maniera uniforme e garantendo la sicurezza una scarpa freeride al peso di 1450 grammi è l'unica sul mercato a raggiungere questo livello di peso un last 98 mm quindi una scarpa molto precisa anche nella conduzione dello sci in discesa ma allo stesso tempo prestazionale in risalita pur non essendo una scarpa puramente endurance direi che siamo nel mondo dell'avventura nel mondo di chi vuole esplorare la natura e di chi vuole godersi anche le discese in neve fresca in massima sicurezza con un prodotto di altissima prestazione